Signor Cinque buongiorno, raccontatemi di questa estate balorda, che è successo? Non mi posso lamentare, non mi posso lamentare, mi fa piacere sentirvelo dire. Non mi posso lamentare, a me è andata bene l'estate, è andata molto bene, abbiamo guadagnato i soldi per le tazze. Bruno è vero? Esatto, è vero che stai lavorando più di notte che di giorno? Di notte lavoro in una zona un po' scura. No, Carmela mi ha detto che stiamo facendo feste a te. Sì, tante! Carmela, vieni qua! Vieni a mangiare! Vieni a mangiare! Cosa faccio le gommie? Bruno, i gommoni funzionano? Bene. Il motivo per cui devo venire qua e non andare da qualche altra parte qual è? Perché noi siamo disponibili a tutto. Perfetto. Unizia per tutti, lettini economici, a disposizione e tutto quello che vorrei. Sia per il mare sia per te. E perché sei il più economico Bruno? Perché a me mi bastano solo i soldi per mangiare. Basti, ci fissi una volta. A me mi piacciono i tuoi gommoni perché ci permettono di fare il giro della costa che è meraviglioso. Arriva qualche sub anche, qualcuno che fa immersioni fotografiche e cose. Come? Si cresce, si cresce anno per anno. È vero è un'estate perversa e balurda però... Tiriamo avanti. Tiriamo avanti. Non c'è problema. Vento in poppa. Vento in poppa.